Un incontro e devo dire che i tifosi non mi sorprendono ma hanno parlato benissimo, hanno detto che per loro con questa squadra, la squadra è l'anno scorso e di conseguenza questa squadra c'è un rapporto particolare e hanno dovuto rimarcare questo rapporto che siamo questi giocatori, chiedendo chiaramente il massimo, dicendo che a Sassuolo per i primi 60-70 minuti la squadra non è sembrata quella vera della Fiorentina, quella abituata a dare, quella abituata a giocare, quella abituata a fare le partite, ma ci hanno sostenuto, sono noi, noi dobbiamo dare il massimo e hanno detto anche un'altra bella cosa su noi, di non ascoltarvi troppo. Grazie. Grazie.